Banda Maximoff, volontaria. I due potenziati? Banda e Pietro Maximoff, gemelli, orfani a dieci anni, una granata distrusse il loro palazzo. Aveva un fratello. Si chiamava Pietro. È stato ucciso da Ultron. Dico bene? Che cosa hai detto? L'abilità di lei, comunicazione neuroelettrica, telecinesi, manipolazione mentale. Lui è veloce, lei inquietante. Aspettammo due giorni che Tony Stark ci uccidesse. Io so chi sono. Vedo un'armatura a protezione di tutto il mondo. Ma Maximoff ti sta manipolando, Stark. Punta sulla tua paura. Non sono stato stregato, ma illuminato. Non era un'acqua, era il mio ritaggio. Ultron non ha traccato Jarvis perché era arrabbiato. L'ha fatto perché era terrorizzato. Di cosa sa fare? È la nostra occasione. Possiamo creare il sé perfetto di Ultron senza quel bug omicida che lui ora considera un aspetto vincente. Dobbiamo farlo. Ho guardato nella tua mente e ho visto lo sterminio. Guarda ancora. Vanda. Visione. Bentornata, tesoro. Sta succedendo veramente. Io avevo una certa percezione di me, ma... Sì, amore mio. Sta succedendo veramente. Dopo questo... Tutto è cambiato. Sono ancora... Io, credo. Ma... Tu sei un avvengione. Non è quello che vedono tutti gli altri. Io non so cosa sia questa. Non ne ho idea. So che non è di questo mondo, che è alimentata dallo scelto di Loki, che dona delle abilità, ma... Ho avuto una visione. Un vortice che inghiottisce ogni speranza di vita e al suo centro c'è quella. La sua vera natura è un mistero. Eppure fa parte di me. Ne hai paura? Desidero comprenderla. Più la comprendo, meno mi controlla. La nostra forza può attrarre minacce. Le minacce provocano conflitto. Mi servono... Vigili del fuoco. Nel lato sud del palazzo. I conflitti... Generano catastrofi. Se lo fai... Non smetteranno mai di temerti. Non posso controllare la loro paura. Soltanto la mia. Come hai fatto a fare tutto questo? Poteva eliminare Thanos da sola se lui non avesse scatenato un blitz. Insomma, nessuno ci è andato vicino. Non so come io abbia fatto. Io... Io mi ricordo soltanto... Una profonda solitudine. Un vuoto. Solo... Percepisco te. Io ti percepisco. Un baratro senza fine. Non riesco a percepirti. Non posso. Sei che puoi. Tu puoi. Che cosa vuoi? Ho già quello che voglio. Se prende la genna a metà dell'universo, morirà... E nessuno... Cerchiamo di salvare più persone possibili. Lo porterà via da me. A volte non vuol dire tutti quanti. Di nuovo. E tu che cosa vuoi? Resta. Che la gente ti veda... Come ti vedo io. È ingiusto. Non dovresti farlo tu, ma è così. Va tutto bene. So che non mi faresti del male. Ti prego. Ti prego, vattene. Se non troviamo un modo per convivere con questo la prossima volta... Mi avevi chiesto di restare. Forse nessuno verrà salvato. Io resto. Non scambiamo vite, capitano. È come un'onda che mi investe ancora e ancora. Mi butta giù e... E... Quando tento di rialzarmi, mi investe di nuovo. E non riesco. Tenta di annegarmi. Vuoi sapere cosa ho provato? Ti capisco, figlia mia. Non potresti mai. Ecco che cosa ho provato. Quello che stai facendo qui è sbagliato. È sbagliato. Sto cercando di dirvi... Chi? Ci sono delle regole nella vita. Aiuto! Alle persone serve aiuto! E non... Esiste... Il ritorno dalla morte. La morte è per sempre. Non può essere tutto dolore, giusto? Ma cos'è il dolore? Se non amore... Perseverante. So che rimetterai tutto a posto. È un prezzo troppo alto da pagare. Ma non per noi. E cosa gli state facendo? Se non vuoi lasciarci andare... Facci morire. Cosa sono io? Voglio solo seppellirlo. Tu sei la mia tristezza. La mia speranza. Ma soprattutto tu sei il mio amore. Un ricordo... diventato realtà. Ragazzi, ci rivedremo di nuovo. Grazie per aver scelto me... come vostra madre. Tu mi... mi hai portato via tutto. Questo sarà l'unico... avvertimento. State lontani da casa mia. Non so nemmeno chi sei. Lo saprai. Non è la scomparsa di una persona, Capitano Rambo, ma di una località. Una specie di... campo magnetico. Conclusioni della dottoressa Darcy Lewis sull'anomania di Maximoff. Elevati livelli di radiazioni presenti sul relitto. Effetti sui residenti di Westview sconosciuti. Se davvero Wanda è il problema, deve essere lei stessa la soluzione. Wanda. Chi ti sta facendo questo, Wanda? Cosa? Tu devi fermarmi. Ti prego, falla smettere! Non hai proprio idea di quanto tu sia pericolosa. Ti assicuro che sono una persona... innocua. Chi sono gli Avengers? Cosa? Non ricordo la mia vita prima di Westview. Non so chi sono. Ho paura. Riguardo a chi sono, non sarai tu. A... dirtelo. Lui farà di te la cattiva! Qual è la prima cosa che ricordo? Forse lo sono già. La voce di Wanda nella mia testa si resiste. Ha tentato di resistere? C'era questa sensazione che mi imprimeva di disperazione. A volte è difficile. Genitori morti, fratello morto, visione morto. Ma prima o poi tutti gli uomini rivelano se stessi. Nessuno può uscire. Wanda non ce lo permetterà. Gli umani sono strani. Questa è magia del caos, Wanda. Credano che l'ordine e il caos siano in qualche modo opposti e cercano di controllare ciò che non si può. So chi sei tu. Scarlet Witch Iscriviti al canale C'è un'altra cosa. La mia testa è magia del caos. Ma che è un'altra cosa. La mia testa è magia del caos.